Si fa presto a dire Fotomode, ma dietro questo nome si nasconde una funzione molto più importante di quello che si può pensare, anche perché non permette soltanto di scattare foto ai nostri panorami preferiti, ai nostri personaggi più riusciti o, per esempio, alle nostre autovetture virtuali. Il Fotomode, in questa lunga generazione di console, ha rappresentato una delle forme più concrete di pubblicità, e pubblicità a costo zero. Andiamo a vedere il perché. Partiamo dal fatto che io sono veramente un amante del Fotomode, un amante, ma di quelli matti, che ha dovuto cambiare due pad PlayStation soltanto perché il primo pulsante a rompersi è stato proprio il pulsante Share, quello che ti permette di scattare immediatamente una foto. Ma lo stesso è accaduto su Xbox, su PC, insomma, su tutte le piattaforme da gioco. Il Fotomode, nel frattempo, partendo dai Racing Game, perché i Racing Game sono stati effettivamente il primo genere a permetterci non solo di immortalare una vettura o una gara, ma anche di permetterci di regolare tutte quelle funzioni che sono alla base della fotografia reale, in real life, così si dice su internet, no? Da lì in poi la funzione è andata avanti e oramai è talmente, talmente utilizzata, talmente apprezzata che ci fa strano che un gioco, soprattutto uno con una grafica particolarmente bella e riuscita, non abbia dal day one, dal giorno in cui arriva nei negozi, un Fotomode già funzionante. E a volte capita e quando capita ci danniamo perché non possiamo, per esempio, mostrare le foto ai nostri amici sui nostri canali social, ma comunque nemmeno permette di farci scattare delle foto anche per ripercorrere quella che è stata la nostra avventura con un gioco. Perché io lo faccio anche per questo, non soltanto perché amo immortalare un bel paesaggio o una bella situazione, ma perché trovo particolarmente interessante una volta arrivato ai titoli di cota andarmi a rivedere tutti quelli che sono stati i momenti salienti e che in qualche modo mi hanno spinto ad immortalare la scena, o con il pulsante share o con un vero e proprio Fotomode di quelli super dettagliati, super specializzati che è possibile trovare nei giochi odierni, tra questi è impossibile non citare le ultime due esclusive Sony che rappresentano una sorta di apice al riguardo The Last of Us Part II e ancora meglio Ghost of Tsushima che oltre a permetterci di immortalare un paesaggio, il personaggio intento a camminare o a combattere ci permette anche di animare la scena, cosa particolarmente importante per chi non vuole fermarsi al classico scatto ma punta a una più appariscente e spettacolare GIF. Il Fotomode è diventato così popolare, così importante, poi vi diremo anche il perché e non solo, perché non è legato soltanto alla passione di fare buone foto che addirittura Nintendo se ne accorta. Su Switch sappiamo che le funzioni multimediali sono ridotte all'osso mancano anche tutte quelle app che oramai diamo per scontate su altre console o su qualsiasi set-top box. Ci sono voluti anni anche solo per avere YouTube mentre il Fotomode è arrivato praticamente al lancio nativamente inserito nella console e oltretutto non solo è possibile scattare foto ma addirittura registrare brevi filmati e questo si ripercuote anche nei giochi First Party, i giochi Nintendo, Super Mario Odyssey ha un Fotomode decisamente interessante con tutta una serie di filtri che permettono di comporre delle fotografie particolarmente artistiche quindi se se ne accorta Nintendo vuol dire che le cose sono dannatamente serie e ora arriviamo al punto, cominciamo a spiegare il perché. La prima a capire l'importanza del Fotomode è stata Sony perché è stata la prima a permetterci di shareare, di condividere i nostri scatti attraverso tutta una serie di sistemi, attraverso tutta una serie di social network Twitter, Facebook e poi man mano le cose sono cambiate ma diciamo che questi sono i più importanti mentre Microsoft già alle prese con alcuni problemi concettuali legati a Xbox One ha deciso in prima battuta di imporre l'uso dei suoi sistemi tra questi Mixer che sta chiudendo proprio in queste ore con l'ultimo aggiornamento Mixer morirà poi è arrivata Nintendo ma è anche Nintendo che di solito ha il terrore ad aprirsi a sistemi esterni a quelli concepiti e gestiti da lei stessa ha deciso e concesso che sarebbe stato opportuno poter condividere tutti i nostri scatti attraverso i social network più famosi esattamente come Sony in prima battuta con PlayStation 4 perché vi direte voi? perché questa attenzione è una funzione che a prima vista sembra così secondaria ma perché parliamo a tutti gli effetti di pubblicità gratuita guardiamo all'inizio di questa generazione mentre su Twitter o Facebook vedevamo un prolificare di immagini scattate immagini molto spesso meravigliose scattate con PlayStation 4 c'era la totale assenza di Xbox One perché? perché il passaggio per arrivare a postare una foto su Facebook per esempio era così arzigogolato che molta gente semplicemente non lo faceva si accontentava di postare qualche cosa sul suo canale mixer o sul suo feed interno alla console in modo da così attirare lo sguardo soltanto dagli altri utenti Xbox quindi c'è stato effettivamente un problema anche di comunicazione perché avevamo una PlayStation onnipresente sui social mentre un Xbox One si limitava al suo piccolo e come oggi vediamo e abbiamo certificato in significante recinto delimitato dallo scarso appeal di mixer e poi dopo PlayStation è arrivato il turno di Nintendo e anche Nintendo appunto ci ha permesso di condividere le nostre immagini ovunque e sicuramente questo ha sortito un effetto assolutamente benefico nelle vendite di uno Zelda Breath of the Wild o di un Super Mario Odyssey la presenza, lo sappiamo tutti soprattutto di questi tempi è molto più potente dell'assenza che è un po' il gioco a cui sta giocando ultimamente rischiando proprio Sony con la strategia legata a PlayStation 5 tra l'altro Sony da qualche tempo ha impedito di condividere questa tipologia di contenuti su Facebook e questo in parte sta limitando la presenza Sony su questi social quindi il photomode è soltanto l'inizio il photomode come lo concepiamo oggi la next gen ci porterà una maggiore potenza di calcolo una grafica migliore ma siamo certi anche un photomode di ben altri livelli rispetto a quelli che siamo già abituati a vedere oggi il motivo, il motivo è proprio questo qui pubblicità, pubblicità gratuita presenza, meglio di assenza e voi come vi rapportate con il photomode? amate scattare le immagini come piace a me oppure questo pulsantino qui per voi è del tutto inutile? fateci sapere come vi comportate a riguardo attraverso i commenti che trovate qui sotto e mi raccomando il consiglio è sempre il solito continuare a seguire Multiplayer.it attraverso tutti i suoi canali alla prossima